e questo è il secondo turno dei playoff del girone G ed è una gara secca, una gara da dentro a fuori dove il Catania ha due risultati a suo favore, uno solo, la regina che deve cercare di sbancare il massimino cuce tra attacco e centrocampo, Sarno, salva via, ancora Sarno, attenzione, si accende ai 20 metri ancora Sarno, ancora Sarno, tutto solo, Vincenzo Sarno, fa il pazzino al massimino la reazione della regina, ancora dubbia, la frenata, ancora dubbia sul secondo pallo, arriva Saladriano al pareggio la regina c'è, la regina c'è, 1-1 al massimino c'è un Sarno che sta facendo, attenzione al cross di piazza, la buca, poi c'è il vio del Catania la carambola impazzita, lo sbaglia e adesso il Catania può ripartire, attenzione con Barotta che trova spazio, poi per di piazza è tutto solo, dentro l'aria Matteo, di piazza, il Catania triplica il pallone prova il numero sul colzone, ancora curiale, pallone dentro Barotta si è sbloccato anche Barotta, Catania 4, regina 1 in serie B, Catania sente la pressione di dovercela fare a tutti i costi in potenza, dalla sua la forza della spensieratezza con la pure Guaita, sulla destra chiede la collaborazione del 23 è un triangolo che riesce a portare Ricci in posizione di cross la tocca l'Escano, deve alzarla con i pugni pissari la mette morbida dentro per Matteo di piazza che sblocca la partita Catania 1, potenza 0 al Viviani, l'assistisa che la mette per l'Escano e Pissari riesce ad alzarla in angolo Genchi se la sposta sul sinistro per il tiro che va di poco alto sopra la travessa gli applausi del Viviani per Giuseppe Genchi che prova ad entrare in partita così con un pensio di potenza aia Curiale va via sulla corsa hai pensato che aveva preso posizione Devis Curiale poi però non riesce a continuare per cercare di farci piacere invece ce l'ha fatta e c'è il gol di Carlos Franza per l'1-1 nell'area piccola ha pareggiato il brasiliano il boato del Viviani per il gol numero 12 di Carlos Franza in questa stagione per l'1-1 nell'area piccola 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 Sì 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 Sì